ottava lettura secondo pavel il bisconte dino il bisconte è un uomo interessante con i baffi all'insù e nare un po distante calcola tutto quel che gli capiti a tiro il passare del tempo ai petali dei fiori usa il pallottoliere non si fida del calcolatore quando le cifre diventano troppo ardite si aiuta con l'uso delle dita il bisconte si diverte a bisticciare senza però mai distrattare colleziona vistori e targhe dispari mangia biscotti amari per merenda bistecche per le feste bisbiglia frasi stane quando sbadiglia è famoso per i suoi consigli ricopre mansioni prestigiose studia i denti con tagli elefanti abbraccia le persone per malose fa ridere quelle litigiose amici carissimi del bisconte dino sono ugo l'ambulante più l'agrimensore girano e misurano lari e fili d'erba ogni volta fallo l'alba persi tra zolle rosa e nuvole di merda